Buongiorno a tutti, sono Fabiola Papagna, Customer Care Manager della start-up Kerpi. Kerpi è un servizio digitale che in maniera rapida ed efficiente gestisce le terapie della famiglia, fornendo al farmacista uno strumento di fidelizzazione e al medico uno strumento di monitoraggio dell'aderenza terapeutica. Quindi abbiamo tre piattaforme, due per i medici ed una per il paziente attraverso un'applicazione in cui si ricevono tutti i consigli riguardanti la salute. Il vero valore aggiunto è la creazione quindi di una squadra tra il medico, il farmacista e il paziente che viene raggiunto o attraverso l'applicazione con un sistema di notifiche automatiche o attraverso i caregiver e la famiglia oppure quando abbiamo un paziente solo attraverso l'utilizzo degli sms. Per stimolare ulteriormente il paziente all'interno dell'app è presente un sistema premiante in cui ogni azione che migliora la salute comporta l'accumulo di punti spendibili direttamente in farmacia. Grazie a tutti!